Allestito in un luogo non idoneo che non garantirebbe dunque la sicurezza dei lavoratori, per questo motivo il compattatore di Sei Toscana che si trova alle mie spalle va smantellato. Questo quanto emergerebbe dai primi rilievi condotti dal PIS il servizio ASL per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Arriva dunque una prima svolta nel cato di Giancarlo Andreoni, l'operaio di 57 anni, travolto ed ucciso lo scorso 26 ottobre a Camucia da un camion dei rifiuti in retromarcia. L'uomo lavorava per la cooperativa Futura che opera in appalto per il gestore dei rifiuti Sei Toscana. Il compattatore posto sotto sequestro, stando a quanto rilevato dall'ASL, è stato sistemato in una strada cieca, un tratto di smesso della vecchia provinciale. I camion non hanno così spazi di manovra, possono solamente andare in avanti o a marcia indietro. La strada, inoltre priva di illuminazione adeguata segnaletica, è stato così disposto l'immediato smantellamento e il trasferimento del compattatore in un'altra sede. L'ASL ha inviato anche un'informativa al pubblico ministero Angela Masiello, già contattato inoltre il comune di Cortona per individuare un'altra area dove allestire il compattatore in sicurezza. Gli accertamenti estesi poi anche al camion non hanno accertato anomalie al veicolo. C'è infine un primo indagato per la morte del 57enne. L'avviso di garanzie è stato emesso nei confronti dell'autista del mezzo, anche lui a retino. Non è escluso però che la procura decida di inserire nel registro degli indagati altri nomi. Martedì pomeriggio è l'ultimo saluto all'uomo. I funerali si sono svolti alle 18 nella chiesa di Santa Croce ad Arezzo.